ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a realizzare un nuovo progettino fai da te tutto dedicato alla primavera e vado a realizzare insieme a voi questa coroncina di fiori è davvero molto molto semplice realizzarla vi servono pochissime cose e sarà pronta in pochissimi minuti ma andiamo subito a vedere come realizzarla dunque come prima cosa vado a prendere un nastrino rosa e dopo aver misurato la circonferenza della mia testa vado a tagliare il nastrino di 10 centimetri più corto rispetto alla misura che avevo precedentemente preso quindi nel mio caso sono 43 centimetri a questo punto quei 10 centimetri che avevo tolto dalla misura che avevo preso in precedenza vado a tagliare un elastico alla quale poi vado a fermare i pelucchi con un accendino e lo stesso passaggio lo vado a fare anche con il mio nastrino in modo che non si spilacci con il tempo a questo punto aiutandomi con la colla a caldo vado ad incollare con una bella gocciolona di colla il mio elastico al mio nastrino in modo appunto da creare un cerchio chiuso quindi state attenti quando li incollate a non girare il nastro la colla si asciugherà davvero in pochissimo tempo e in questo modo avremo già formato il nostro cerchietto la nostra fascetta che grazie all'elastico sarà più semplice da usare a questo punto se volete potete cominciare a decorare il vostro cerchietto io in questo caso lo dedico alla primavera e quindi vado ad incollare dei fiorellini finti quindi verso una bella gocciolina di colla nel mio cerchietto e poi vado ad incollarci sopra i fiori nel mio caso ho scelto questa disposizione quindi dal più piccolo più grande ma ovviamente potete fare come più vi piace e niente a questo punto il mio cerchietto è finito io spero che l'idea vi sia piaciuta lasciate un mi piace al video per sostenermi condividetelo con i vostri amici se provate a farlo lasciatemelo scritto sotto nei commenti iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ricordatevi di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati ogni volta che carico un nuovo video nel canale con questo è tutto noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao